Lo scopo di Arte e Savori è quello sempre di valorizzare tutti i fornitori locali. La galleria è strapina di persone, quindi la voglia di uscire, di avere il contatto anche con gli eventi c'è. Enocastronomia è non solo di scena al Parco Commerciale Grande Sud di Giuliano. Grazie all'iniziativa Arte e Sapori, ieri nuova tappa della Kermes, che valorizza i prodotti e le aziende del territorio. Nella piazzetta dedicata a Basile, grande successo per lo show cooking della chef Cinzia Fumagalli, protagonista la pasta di pastai cacciapuoti, tra le eccellenze del territorio giulianese. Io sto benissimo qua. Diciamo che sono una finta lombarda, perché è più il tempo che passo in campagna e a Napoli che neanche a casa mia. Cioè è una terra che mi accoglie sempre con allegria e con piacere, come io vengo e io vengo con piacere. Cosa prepariamo oggi? E soprattutto una importante collaborazione con Pastai Cacciapuoti, che è un'azienda del nostro territorio. È un'azienda di Giuliano. Utilizzo oggi le chicche e faccio una pasta, come sempre stravagante, perché notoriamente lo sono, e faccio una crema di fichi d'India, però ho utilizzato solo quegli arancioni. Salto la pasta, poi sopra metto della stracciatella, del pane tostato con nocciole e capocollo. Pastai Cacciapuoti per adesso è un pastificio che si occupa per lo più di distribuzioni all'ingrosso, in special modo per la distribuzione e la fornitura ai ristoranti. Ristoranti per cerimonie. Tra i progetti futuri di Pastai Cacciapuoti, visto l'entusiasmo che si è creato, soprattutto negli ultimi anni, c'è voglia di un punto vendita che sia giulianese, in modo tale che ci sia la possibilità da parte dei nostri amici di poter trovare i nostri prodotti a portata di mano. Lo scopo di Arte e Sapori è quello sempre di valorizzare tutti i fornitori locali. Il pastificio Cacciapuoti è uno di questi ed è una garanzia per l'evento che si sta svolgendo. Poi abbiamo anche, ancora una volta quest'anno, la visita della Fumagalli, quindi siamo non soddisfatti ma di più. Un centro commerciale Grande Sud che oggi, più che mai, è in grandissimo rilancio dopo la pandemia. La galleria è strapina di persone, quindi la voglia di uscire, di avere il contatto anche con gli eventi c'è. Il prossimo fine settimana sarà dedicato al vino novello, ci saranno le cantine Cecere, domenica abbiamo come chef Francesco Pedito, finalista di Cannavacciuolo, il weekend del 13 e 14 abbiamo la festa del Torrone e chiudiamo con il grande Andrea Mainardi. Grazie a tutti.